Piazza Matteotti a Porto San Giorgio diventa ancora una volta la passarella per autentiche opere d'arte viventi. Va in scena la seconda edizione di Body Art, il premio internazionale di body painting organizzato e diretto da Lucia Postacchini. Ancora una volta dunque la città di Porto San Giorgio ospita un evento davvero unico nel suo genere. 17 le modelle arrivate da tutta Italia che fin dal mattino ospiti ognuna dei principali chalet sul lungomare sono state dipinte da veri artisti del body painting. Ore ed ore di estenuante preparazione ma alla fine i risultati sono di una bellezza davvero unica, tanto da far restare incollato alle proprie serie un pubblico per numero davvero imponente. Il contest ideato per l'occasione ha avuto come tema conduttore quello del fumetto, ispirando di conseguenza i disegni con cui sono state dipinte le 17 ragazze in gara, con tantissimi richiami ad esempio ai supereroi della Marvel. Due distinte giurie sono state chiamate ad esprimere una serie di valutazioni per decretare le opere più belle. Una giuria tecnica composta tra gli altri dal pluripremiato campione del mondo di body painting Alex Hansen e Giussi Campolungo, campionessa europea della particolare disciplina, nonché da un graditissimo ospite d'onore come Sandro Trotti, niente meno che è ambasciatore della pittura italiana in Cina. L'altra giuria, quella popolare, è stata presieduta dall'assessore a turismo e cultura del comune di Porto San Giorgio, Elisabetta Baldassardi, attratta anche lei dalle fantastiche performance delle modelle in passerella e soprattutto dalle loro meravigliose decorazioni. Straordinaria come anticipato la risposta del pubblico san giorgese, ma non solo, per uno spettacolo in cui tempi sono stati scanditi da due affermatissimi conduttori come Bedrice Silenzi di Radiolinea numero 1 e Luca Romagnoli. Ad aglietare inoltre la piacevolissima serata la splendida voce di Adriana Russi, che insieme a Marco Russi hanno duettato su celebri pezzi della canzone italiana. Ma alla fine, pur sempre di un contest si trattava e dunque tra i tanti capolavori c'era la necessità di decretare una vincitrice. È stata un'acclamatissima modella romana, Samantha Paulini, a portarsi a casa il primo premio. Ma anche Porto San Giorgio ha fatto la sua bellissima figura, con la san giorgese Jessica Piergentili straordinaria seconda classificata. Passerella finale poi per tutti, modelle e artisti della decorazione, per la gioia dei numerosissimi fotografi presenti in prima fila. Un successo clamoroso per una manifestazione che non potrà che legare il proprio nome alla nostra città ancora per tanti anni a venire. Grazie. Grazie a tutti.